Predissesto, situazione delicata ma Resto fiducioso, altrimenti mi sarei già dimesso Così l'assessore al bilancio del comune di Brindisi, Cristiano Del Rico Durante la nostra trasmissione, Palazzo Nervegna E intanto è botta e risposta sul predissesto tra maggioranza e opposizione Rossi doveva cambiare la storia e non ci è riuscito Questo è un dato di fatto Così le opposizioni alla maggioranza sulla delicatissima situazione di bilancio del comune di Brindisi Misterioso odore di bruciato scoperta la causa Rifiuti dati alle fiamme A fare la scoperta i carabinieri forestali del nucleo investigativo Il sindaco Rossi commenta Speriamo prendano i responsabili Arrestato dai carabinieri Alessandro Castrovilla Rilatitante dallo scorso 22 luglio L'uomo condannato per una rapina avvenuta nel 2015 Era nascosto in un casolare nelle campagne di Oria Si giocherà alle ore 17.30 di domenica prossima la gara tra Virtus, Francavilla e Bari Chiusa la telenovela sull'orario del match Problemi di formazione per il tecnico Bruno Trocini Protesta contro diffide e restrizioni Gruppi TK88 e 1920 della curva sud Michele Stasi di Brindisi A partire dalla prossima gara interna contro il Cerignola Non presenzieranno più alle gare casalinghe del club Ben ritrovati venerdì 20 settembre Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale 100 notizie Brindisi Che apriamo inevitabilmente con quello che è l'argomento del momento Il predissesto del comune di Brindisi Termine che non piace troppo dobbiamo dire al governo cittadino I rappresentanti della maggioranza Ma tant'è come è noto nel prossimo consiglio comunale L'assise sarà incaricata di avviare il procedimento Per il riequilibrio pluriennale del bilancio del comune È un momento decisamente difficile e delicato per il comune di Brindisi Lo ammette anche l'assessore al bilancio Cristiano Delrico Che ieri ha partecipato alla nostra trasmissione politica Palazzo Nervegna Condotta dal direttore Walter Baldacconi Delrico ha detto è chiaro che la situazione non è semplice Ma resto fiducioso anche perché altrimenti mi sarei già dimesso Sono ore tanto delicate quanto importanti per il comune di Brindisi Il prossimo consiglio comunale dovrà avviare le procedure del piano pluriennale È volto al riequilibrio del bilancio La situazione di predissesto come viene definito volgarmente Ha creato anche un inevitabile scontro tra maggioranza e opposizione È una situazione ereditata dal passato Continuano a confermare dalla Giunta Rossi E di questo si è discusso anche nella nostra trasmissione Palazzo Nervegna condotta dal direttore Walter Baldacconi Tra gli ospiti studio e l'assessore al bilancio del comune di Brindisi Cristiano Delrico È stata chiamata la struttura a un atto di impegno e responsabilità Per raggiungere l'obiettivo per la definizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale Non mi piace, preferisco lo scioglilingua piuttosto che il termine predissesto Perché è assolutamente improprio E soprattutto è molto lontano come termine dai nostri obiettivi Ma poi una volta ottenuti i dati, dicevo, dalla struttura in modo puntuale Finalmente riusciremo a costruire il piano di riequilibrio facendo delle scelte Noi abbiamo due problemi Abbiamo un problema, chiamiamolo strutturale E cioè una assoluta mancanza di corrispondenza fra entrate e uscite Situazione delicata, dunque, ammette l'assessore al bilancio Cristiano Delrico Ma stiamo lavorando assieme alla macchina amministrativa Per questo resto fiducioso Da una parte un problema strutturale Dall'altro c'è una difficoltà a rendere i dati puntuali e attendibili In modo tale da costruire su questi il piano di riequilibrio Nei 90 giorni che intercorreranno tra l'approvazione da parte del Consiglio Della adesione a 243 bis, del testo unico degli enti locali che disciplina il piano di riequilibrio Noi avremo 90 giorni, dicevo, per sistemare e costruire Quindi lei è fiducioso e ottimista Certo, altrimenti mi sarei già dimesso Critiche da parte delle opposizioni Anche se le posizioni dei vari partiti di minoranza non sono proprio tutte le stesse Ieri ospiti nella nostra trasmissione il Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle Gianluca Serra, il Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia Massimiliano Oggiano In particolare il rappresentante del centrodestra ha dichiarato Questa è l'amministrazione che avrebbe dovuto cambiare la storia Ma si è allineata con le precedenti amministrazioni Basta nascondersi scaricando le colpe sulle precedenti amministrazioni Rossi doveva cambiare la storia E non c'è riuscito duro attacco delle opposizioni alla maggioranza Sulla delicatissima situazione di blancio del comune di Brindisi Noi le proposte le abbiamo fatte Non dobbiamo più proporre nulla Quello che si poteva fare lo abbiamo fatto Quello che il sindaco aveva da fare Lo avrebbe dovuto fare già 14 mesi fa Cioè al lato del suo insediamento Anticipare di 14 mesi Quello che si sapeva sarebbe stato il risultato ultimo Ovvero l'adesione al predissesto Un predissesto che un sindaco ora Ma prima consigliere di opposizione Scafato, addentrato nelle vicende della pubblica amministrazione Del comune di Brindisi Non poteva non sapere Già da parecchio tempo Che le casse del comune di Brindisi Erano in una situazione deficitaria Anche perché i candidati sindaci Se lei ricorderà bene Dell'ultima campagna elettorale E l'attuale consigliere Serra Allora candidato sindaco Lo può confermare Sono stati riceputi da sua eccellenza Il commissario straordinario del comune di Brindisi Che ha mostrato lo stato dell'arte Dei conti del comune A tutti i candidati sindaci Quindi la situazione la si sapeva già dall'inizio Il dibattito politico resta intenso Questa la posizione del Movimento 5 Stelle Attraverso il consigliere comunale Gianluca Serra Ci sono dei debiti pregressi Davvero molto alti Un folle direbbe che 25 milioni di euro Sono un debito che ha prodotto la Giunta Rossi Sarebbe follia La Giunta Rossi ha delle responsabilità politiche E dopo ci torneremo Serissime responsabilità politiche Ma questo nasce da un sistema comune di Brindisi Che la Giunta Rossi non ha avuto il coraggio Di criticare e mettere in discussione Il primo bilancio di previsione Durante la discussione in Consiglio Comunale Preannunciavo I suoi validi giornalisti locali Hanno testimonianza Preannunciavo la strada del predissesto Per il semplice fatto Che si stava seguendo la strada Delle precedenti amministrazioni Interventi di facciata Si cercava di giocare con i conti Residui attivi Crediti di dubbio esigibilità Crediti esigibili Cioè di tenere in piedi i conti Su somme che non esistevano Il dibattito evidentemente Non si consuma solo sul piano politico C'è un intervento anche dell'Adoc Associazione dei consumatori Le chiamano armi di distrazioni di massa Scrive il presidente Giuseppe Zippo Le stesse che rischiamo di subire Non è dato ancora sapere Se è per volontà di qualcuno Casualmente Riferimento è ai due fatti di cronaca Di una certa gravità Di quelli che lasciano il segno Vale a dire l'omicidio di un ragazzo In una delle periferie dimenticate della città E l'annuncio del predissesto Del bilancio comunale Due notizie passate in secondo piano Rispetto al furto di 25 metri di rame Intanto a roghi spenti Ciò che continua a bruciare È il futuro di Brindisi E con esso quello di migliaia di giovani Esposti al malaffare Alla disoccupazione Alla disoccupazione Alla disoccupazione Alla disoccupazione Alla disoccupazione Alla disoccupazione Fa specie che Conclude l'Adoc Mentre si derubrica Il recente episodio di cronaca Rassicurando sul fatto che Brindisi È lontana Dalla situazione Vissuta Negli anni 90 Dall'altra si dà una lettura Di un furto di rame Molto preoccupante Atto intimidatorio Verso l'amministrazione Siamo sicuri Si chiede all'Adoc Che la portata Di certe dichiarazioni Abbia un seguito In atti Consequenziali Altrimenti il rischio È avvelenare Un clima Già di per sé Fortemente compromesso E mentre si va diffondendo Sempre più La sindrome di Stoccolma Tre Brindisini Sulla città Incombe La procedura Di predistesso finanziario Che costringerà famiglie E tessuto produttivo A una pressione Fiscale Esasperata E faceva riferimento L'Adoc Nel comunicato A uno dei fatti Che hanno maggiormente Tenuto banco Nelle ultime ore Ne abbiamo parlato Anche del nostro Telegiornale Quella misterioso Odore di bruciato Che per 48 ore Ha disturbato I Brindisini E non solo Perché in parte Si era propagato Anche in provincia Di Brindisi Ieri c'è stato Un intervento Da parte dei carabinieri Forestali Che hanno scoperto Nei pressi del rione Paradiso Una sorta di piccola Discarica Abbandonata Il cui materiale Era andato A fuoco E' stata individuata La causa Dell'odore di bruciato Che nei giorni scorsi Aveva pervaso Alcuni quartieri Di Brindisi Destando non poca Preoccupazione Tra i residenti E' stata data Le fiamme Infatti una discarica Di circa 500 metri quadri A fare la scoperta I carabinieri forestali Del nucleo investigativo Del gruppo di Brindisi L'area è stata prontamente Sottoposta a sequestro Si trova ai margini Della rampa di confluenza Della ex strada statale 16 Per San Vito De Normanni Con la strada statale 379 Nei pressi del quartiere Paradiso All'interno erano stati abbandonati A più riprese rifiuti Di vario genere Da ristrutturazioni edili Mobili in disuso Recipienti in plastica E tanto altro Materiale dato più volte Alle fiamme Nei giorni scorsi Sempre in ore serali Generando fumi Innause e abbondi Sospinti dal vento Verso i quartieri Settentrionali Della città di Brindisi Il sindaco Riccardo Rossi Intervenendo in diretta La nostra trasmissione Palazzo Nervegna Commenta così E' stato trovato Un sito Nei pressi Del proprietà dell'Ana Su un terreno All'interno del quale Sono stati bruciati Circa 500 metri quadri Quantità di rifiuti Negli scorsi giorni Quello che c'è Ieri un po' informalmente Ci si diceva Da parte delle autorità Cioè che fosse Dei rovi di rifiuti Con stertaglie Per un momento articolare Di rifiuti plastici Sembra trovare Diciamo Conferma Anche su questo Ieri Si sono aperte Un po' Le classiche Polemiche Dispetto al quale Alle mie posizioni Ambientaliste Dispetto alle quali Oggi Io sto coprendo Realtà industriali Discorrendo La realtà Invece Noi non abbiamo Intenzione Di coprire nessuno Tant'è che abbiamo Inviato anche La polizia locale Ovunque Cercando di capire Dove fossero Le sorgenti Di questi Odori Abbiamo allestato Ripeto Arpa Forestale E oggi Sembra che ci sia Questo sequestro Di questo terreno All'interno Nel quale Sono stati Trovati I resti Di questi Robi Quindi Anche chi Ieri Ha speculato Politicamente Su questa vicenda Penso dovrebbe Farsi un Serio Esame Di coscienza Oltre ovviamente Dico a parte Questo Oltre ovviamente Che non possiamo Pensare Che la città Di Brindici Posso diventare Una terra di fuoco In cui lo smaltimento Dei rifiuti Avvenga nelle campagne Appiccando fuoco Questa è un'operazione Diciamo Delinquenziale Rispetto alla quale Io spero Che le autorità Le forze Dell'ordine Possono fare Presto luce E Denunciare I responsabili Su argomento Intermuto anche L'assessore All'ambiente Del comune Di Brindici Spiace constatare Che ancora una volta A causa dell'inciviltà E dell'irresponsabilità Di qualcuno Altri Hanno dovuto Subire Esalazioni Dannose Ed è stato Creato Uno stato Di allarmismo Generale In questi due giorni Come amministrazione Comunale Abbiamo sollecitato ARPA E il nucleo forestale Dei Carabinieri Affinché si potesse capire La natura Del cattivo odore Diffuso in città Prontamente è arrivata La risposta È emerso Che si trattava Di roghi di rifiuti Ed è stato Sequestrato Un vasto terreno Prosegue l'assessore All'ambiente Questo crea Apprensione Soprattutto perché Le segnalazioni Giunte nei giorni scorsi Sono anche relative Ad altre aree Alla luce di tutto ciò Si teme che questo fenomeno Possa essere diffuso E possa ripetersi E quindi Chiediamo la collaborazione Dei cittadini Nel segnalare Alla polizia locale Alle altre forze Dell'ordine eventuali Altri episodi Noi ovviamente Vigileremo perché Brindisi non diventi Una terra dei fuochi Così l'assessore Alle politiche ambientali Del comune di Brindisi Roberto Alopalco In effetti faceva riferimento Anche l'assessore Al fatto che È improbabile Che quel cattivo odore Fosse sprigionato Esclusivamente Da questa Piccola discarica Che era andata A fuoco In effetti La sensazione Che possa esserci Comunque Possano essercene Quanto meno altre Che avevano Scatenato Anche questi due giorni Di particolare apprezzione Tra i cittadini La cronaca Arrestato dai carabinieri Un latitante Ricercato Lo scorso 22 luglio L'uomo Era condannato Per una rapina Perpetrata Nel 2015 Era latitante Dallo scorso 22 luglio Si era reso Irreperibile Dopo una condanna Due anni Otto mesi Per rapina Alessandro Castrovillari 32enne di O È stato trovato Dai carabinieri La scorsa notte Si era nascosto In un casolare Nelle campagne Della cittadina Di origine I militari Nel corso Di alcuni servizi Di osservazione Nelle aree rurali Hanno localizzato Il rapinatore In un edificio Incontrato a portaccio Sono entrati in azione Poco dopo la mezzanotte Hanno circondato l'aria Chiudendo ogni via di fuga L'uomo era in compagnia Di una donna Proprietaria Dell'immobile Non ha opposto resistenza Il 32enne ha alle spalle Numerose vicende di natura penale Per reati contro la persona E il patrimonio L'ultima Motivo per il quale Era ricercato Una rapina impropria In concorso Effettuata Il 17 luglio Del 2015 A San Pancrazio Salentino Castro Villari E un complice Si impossessarono Di una Renault Scenic Sfruttando la distrazione Del proprietario Della vettura In quell'occasione L'automobilista Cercò di opporre resistenza Aggrappandosi Allo sportello Posteriore del mezzo Successivamente Cadde sull'asfalto Riportando numerose lesioni Le indagini Portarono alla cattura Di uno dei responsabili Nei primi giorni Di agosto del 2015 Castro Villari Commise il reato Mentre era in affidamento In prova ai servizi sociali Misura che venne sospesa Dopo la cattura Ed espletata Le formalità di rito E' stato associato Nel carcere di Brindisi A disposizione Dell'autorità giudiziaria Ci fermiamo adesso C'è la pubblicità La linea Valle a Regia Curata oggi Dalla sede Di Brindisi Da Dario Spagnolo Tra poco Questa mattina Nella suggestiva cornice Della chiesa di Santa Maria Del Casale A Brindisi Si è tenuta la celebrazione Della Santa Messa In occasione Della festa liturgica Di San Matteo Apostolo Patrono Della Guardia Di Finanza La ricorrenza Che cade Il 21 settembre Viene celebrata Sin dalla proclamazione Del patrono Avvenuta nel 1934 La funzione religiosa La quale hanno partecipato Le massime autorità civili E militari locali I finanzieri in servizio Al comando provinciale Della Guardia di Finanza I rappresentanti Dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia Delle sezioni Di Brindisi Ostuni E Fasano E' stata ufficiata Da Monsignor Domenico Caliandro Arcivescovo Di Brindisi Ostuni Durante l'omeria Il sacerdote Ha ricordato La figura Dell'Apostolo Esattore Delle tasse Mettendo in evidenza La sua pronta disponibilità La chiamata di Cristo Al termine Il comandante provinciale Nicola Bia Ha ringraziato L'Arcivescovo Per aver invocato La protezione La guida del santo patrono E ha ribadito Come il quotidiano servizio Svolto dal corpo Sia sempre più aderente Alle crescenti esigenze Di sicurezza Della collettività Terza edizione A Brindisi Del premio Capitello Tra i premiati Anche il prefetto Di Brindisi Promossa Dalla CISL Taranto Brindisi E dalla presidenza Di Consum Si è tenuta La terza edizione Di consegna Del premio Capitello Nel corso Di una suggestiva cerimonia Presso Palazzo Della provincia Di Brindisi Il premio Capitello Riservato a persone O realtà sociali Del territorio Che si contraddistinguono Con la loro opera A favore Del bene Della comunità In generale E in particolare Di quello Dei cittadini Tra i premiati Su eccellenza Umberto Guidato Prefetto di Brindisi Un premio speciale Infine è stato consegnato Ad Anna Maria Furlan Segretaria generale Della CISL nazionale Senz'altro Il premio Per l'incarico È una rivesta E quindi È una terra Per cui Bisogna Profondere Ogni energia E D'altra parte È una terra Che sento È molto vicina Perché io sono Salentino Come sapete E quindi È una terra Che ha bisogno Che richiede Ma che riconosce Anche E questo Senz'altro È un aspetto Molto importante Che ci leggo A sottolineare A Francavilla Fontana È stata proposta L'intitolazione Di una via cittadina Al maresciallo Dei Carabinieri Antonio Galeone A poche settimane Dal decennale Dalla scomparsa Del compianto Maresciallo Antonio Galeone A Francavilla Fontana Viene resa nota La volontà Di dedicargli una via Per iniziativa Del consigliere comunale Di Forza Italia Antonio Andrisano Il maresciallo Antonio Galeone Dopo aver guidato Per tanti anni I carabinieri Della compagnia Di Francavilla Fontana Ha lasciato un ricordo Indelebile Nei cittadini Della città Degli imperiali Per il suo particolare Modus operandi Adottato Per far rispettare Efficacemente La legge Il maresciallo Galeone È ancora Nel cuore E nella memoria Di tanti francavillesi La prova provata Di quello che dico E il successo Ed il consenso Che ha riscosso Questa mia iniziativa Ha successo Non soltanto In termini proprio Numerici Ma anche di critica Ed infatti Ho avuto modo Di verificare Come in questi giorni Anche sui social Questa iniziativa Questa mia proposta Abbia riscosso Un grande successo A riprova Dell'affetto Che tutta la cittadinanza Francavillese E non solo Nutre ancora Per il luogotenente Galeone Quindi nei prossimi giorni Ormai Diciamo Siamo vicini Al decennio Dalla morte Del sotto ufficiale Dei carabinieri Mi attiverò Affinché Possa naturalmente Avviarsi Il relativo Iter Che vedrà Mi auguro La conclusione Con l'intitolazione Di una piazza Di una Di una via O comunque Di un parco Della città Di Francavilla Fontana È un riconoscimento Doveroso Che Francavilla Deve al maresciallo Galeone Per tutto quello Che lui Ha fatto Per il nostro territorio E per la nostra cittadinanza Negli anni In cui ha comandato La stazione di Francavilla E siamo allo sport Il calcio Iniziamo dalla Virtus Francavilla Finalmente Abbiamo l'orario Ufficiale Del fischio D'inizio Del derby Con il Bari Si giocherà infatti Domenica Alle ore 17.30 Si chiude così Una telenovela Durata quasi Una settimana Inizialmente Sembrava che Per motivi Di ordine pubblico Ed evitare Incroci Tra tifoserie Sulle strade La partita Potesse essere Anticipata Al sabato Poi sembrava Si dovesse giocare Regolarmente Alle ore 15 Alla fine Poi si è deciso Di far giocare Alle 17.30 Un appuntamento Storico Per la città Di Francavilla Fontana Ci sarà il tutto Esaurito Al Giovanni Paolo II Ricordiamo che Vista L'enorme Richiesta Di Tagliandi La società Innanzitutto Programmato la giornata Forza Francavilla E quindi Non saranno validi Gli abbonamenti E poi Per questa partita Ha ritirato Tutti gli accrediti Dunque Non sarà possibile Avere ingressi Omaggio Per questo Match Che Già si sa Da oggi Farà registrare Il tutto Esaurito Sul piano tecnico Tattico Ci sarà qualche Problema di formazione Per Bruno Trocini Che tra Squalifiche E infortuni Dovrà Ridisegnare La sua Formazione Spostiamoci In serie D Lì non giungono Buone notizie Per il Brindisi Che rischia Un notevole calo Di spettatori Per il Big Match Domenica prossima Contro il Cerignola Infatti C'è stato Un comunicato stampa Diramato Da alcuni gruppi Della Curva Sud Michele Stasi Che vi leggiamo I gruppi TK88 E 1920 Della Curva Sud Michele Stasi Comunicano Che a partire Dalla prossima gara interna Tra Brindisi E Cerignola Non presenzieranno Ed esporranno Più i propri striscioni Sospendendo Temporaneamente Tutte le attività Del tifo organizzato Nelle gare casalinghe Prendiamo questa Mala decisione Perché non vogliamo Pagare per colpe Non nostre L'ultra se consapevole Delle proprie azioni Ma non si può essere Il capro espriatorio Dell'incompetenza altrui Siamo stati colpiti Da clamorose restrizioni Di vieti E assurdi di fide Le ultime delle quali Rivolte agli esponenti Fondamentali Dei gruppi portanti Dovute esclusivamente Alla mala gestione Alla mal La cattiva gestione Alla disorganizzazione Tra società E forze dell'ordine La nostra protesta Scrivono I gruppi Della curva sud È mirata a smuovere Le coscienze di tutti E far capire Che non esiste calcio Senza ultras Noi la faccia La mettiamo La metteremo sempre Con la speranza Che ognuno si prenda Le proprie responsabilità Dunque domenica Non ci sarà Il tifo organizzato Nella curva Del brindisi Ricordiamo che ci sarà Questo match Molto importante Con la formazione Bianca-azzurra Che affronterà Una delle squadre Più forti del campionato E del brindisi Ha parlato Anche Domenico Fracchiolla Oggi in Romania Ex direttore sportivo Della Virtus Francavilla Ti posso chiedere Una considerazione Generale Sul brindisi È bugiardo Il risultato di Casarano Può rappresentare Un campanello d'allarme Secondo me Può rappresentare Un campanello d'allarme Perché comunque Le prime partizie Sono sempre particolari Vanno analizzate Sia quando si vince E quando si perde Quindi comunque Bisogna fare attenzione Perché La strada è molto lunga Quindi È preso 4 gol Devi stare calmo Equilibrato Però è chiaro Che devi stare Sempre Allerta Ma il nostro compito Da dirigente Lì c'è Nicola Dioniso Che è molto esperto Anche nelle vittorie Analizzare le cose Che non vanno Quindi sicuramente Nicola sa benissimo Quello che deve fare E chiaramente È un campanello d'allarme Ma come È fisiologico Dopo ogni sconfitta No? Poi all'altro in casa Ti devi Ora viene il Serignolo Domenica È un'altra partita difficile Il Serignolo Che ho visto oggi Certo Il Serignolo Potrebbe pagare La gara in futuro Settimanale E questo Il Vincio Deve sfruttare Facendo una partita Subito Con gli itni alti Perché deve sfruttare Il fatto Il Serignolo Ho già fatto Una gara importante Contro il Casarano Deve recuperare In tre giorni Il Serignolo È una rossa lunghissima Quindi il Brindisi Deve sfruttare Queste cose Ma Come tutte le partite Come tutte le squadre Penso che si giocherà Molto Sugli episodi Sulle condizioni Settimanali Dei giocatori Sarà un campionato Molto tirato Andrea per il direttore Sì vabbè Volevo chiedergli già Ma già risposto Sulla prossima partita Cerignolo A Brindisi Un'altra domanda In basso invece Come vede La situazione Il direttore Fracchiolla Perché vede Delle squadre Magari in maggiore difficoltà Rispetto ad altre Ma questo campionato Ti dà la possibilità Di rinforzarti sempre Sono tanti ancora Svincolati Quindi dipenderà Molto secondo me Dalla forza Delle società E' chiaro che Se ci dovessero essere Situazioni un po' Indificili Come mi dicono Per esempio A Nocero In qualche altra piazza E' chiaro che Si farà fatica A salvarsi Secondo me Dipende Dalla forza Della società Cioè se sono società Che hanno forza Di rinforzarsi Allora sicuramente Si algeranno Oggi vedo un'Andrea Che purtroppo A un punto Esploresi di Albi Perché secondo me De Santis Ha fatto un ottimo lavoro E mi suona strano Vederli lì sotto Ed è tutto Per questa edizione Del nostro telegiornale Parte tecnica curata Da Dario Spagnolo In regia Grazie per l'attenzione Buon proseguimento Con i nostri programmi Grazie per l'attenzione Grazie a tutti.